E adesso che succede? Nelle ultime ore i rumors di Palazzo ipotizzavano persino l'autosospensione del primo cittadino, un passo di lato per non fermare la macchina cedendo le chiavi al suo vice in punta di diritto, visto che no, una norma vera e propria che lo consenta non c'è pur con due precedenti illustri a Foggia, Conciliberti e Milano. Altra storia, tanto più con un'aggiunta tecnica, oppure l'ultimo colpo di coda di Franco Landella, lungo apparenti stato di C e per due volte in fascia tricolore. La prima c'era arrivato dopo tre riconferme consecutive in consiglio tra le fila PD e linee forziste, unico titolare della nomination del centrodestra senza passare dai gazebo. Non era bastato a fermarlo l'alleanza del centrosinistra di Augusto Marasco con il centrista Leo Di Gioia al ballottaggio, che arrivava a quel tornante da civico e assessore al bilancio di Nichi Vendola, la seconda ormai due anni fa. Dopo essere uscito vincitore dalle primarie a tre contro l'enfant prodigio leghista Luigi Miranda e Leonardo Iaccarino, sotto insegne centriste, nella lunga notte del voto dato persino in testa, prima di approdare. Sulla poltrona più alta della Sise, si intende, l'azzurro ce la fa al grido di Emiliano Tolga, le mani da Foggia, e contro un'opposizione divisa tra Demme e 5 Stelle, ma senza poter incassare il dividendo politico. Alle regionali allora sbatte la porta e se ne va, in rotta sulle liste, mi usavano come un muro da voti, confiderai i suoi. Sul campanile batte bandiera leghista, con tanto di Matteo Salvini a benedirlo fino all'ultima crisi. Landella prende tempo, ma il terremoto è innescato, il cerino nelle mani dei partiti, che ora sfogliano la Margherita, dovranno farlo in maggioranza. Si fanno già i nomi di Miranda, Quota Carroccio, della sorella d'Italia, Anna Maria Fallucchi, per sostituirlo, ma pure dall'altra parte dell'emiciclo. Dove chissà il jolly potrebbe essere alla pentastellata Rosa Varone, assessore al welfare del governatore, magari sancendo l'intesa tra le parti, si vedrà come nelle corse, intanto si intravede la safety car.